ciao amici ciao amici ciao amici benvenuti e bentornati nel nostro canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi e lasciate tanti bei like oggi non sapevamo cosa fare allora abbiamo deciso di venire a fare un bel giro al mare che fa anche siamo qui a marina di dietro santa bello mare per fare tanti bei video e tante belle foto che troverete su tutti i nostri social e mi raccomando seguiteci sia su instagram che su facebook di qua o di là da qualche parte sarà e adesso amici decogliamo con il mavic mini e con tante foto mi raccomando eh continuate a seguirci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.